ciao a tutti ragazzi oggi vi presento fritta tu la frittata come la vuoi tu oggi vi parlo di questa nuova linea che l'azienda mi ha inviato questa box appunto per farvela conoscere e parliamo di queste frittate già pronte sono con ingredienti disidratati che bisogna aggiungere comunque le uova e un po d'acqua quindi per poter comunque realizzare delle frittate in cinque minuti sono per due persone sono molto pratiche se la sera o comunque al pranzo non sappiamo cosa mangiare e quindi è pratico per questo perché in cinque minuti possiamo realizzare una cena un pranzo allora di questa linea tritta tu abbiamo sia la parte comunque salata ma anche quella dolce infatti qui di dolce troviamo questo di qua con il cacao amaro quindi per realizzare una sorta di torta in cinque minuti qui invece abbiamo questa con mele e lamponi poi qui abbiamo la classica frittata sfimaci e zucchine poi qui troviamo con funghi curry e semi di chia poi troviamo qui formaggio e tartufo ed infine qui troviamo con melenzana e peperoni e frossi e niente ragazzi queste sono tutte le frittate che mi ha inviato l'azienda state tranquilli che presto vi farò vedere come si prepara una frittata che è comunque semplicissimo pronta proprio in cinque minuti e quindi non vedo l'ora proprio di farvi vedere una frittata della linea frittato vi lascio il link qui sotto se volete comunque a dare un occhiato comunque acquistarli per poterle provare anche voi a casa e niente ringrazio ancora frittato per questa box ciao